Signore e signori buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria, da me, dai postumi della mia influenza e dalla mia giacca a vento della nazionale italiana epoca Prandelli che, come dire, dato che come forse sapete sono reduce, sto smaltendo i postumi di una brutta influenza con annessa bronchite, non mi va di prendere freddo e quindi mi sono attrezzato a dovere. Però sono di nuovo qua, sono di nuovo tra voi. Ripeto, sono mancato per circa una settimana perché oggettivamente, scusatemi, ma sono stato veramente veramente male. Quest'anno l'influenza picchia e picchia veramente forte. però, come dire, sono sopravvissuto e sono di nuovo qua, tutto per voi, con un video in cui parleremo di un personaggio molto poco noto, anzi dovrei dire criminalmente poco noto nella storia, nella storia italiana. Parleremo di una delle vittime delle fosse ardeatine, parleremo del generale di brigata aerea Sabato Martelli Castaldi, colui che fu il più giovane generale delle forze armate delle forze armate italiane e che decise con enorme coraggio e con grande senso di responsabilità, rara avis nel regime fascista, diciamoci la verità, decise di fare una cosa. Promosso da poco generale di brigata, vide come andavano le cose nella regia aeronautica, scrisse una una sorta di lettera dossier al duce dicendogli, duce per carità di dio così non va bene, l'aeronautica come è concepita non va bene, la regia aeronautica se continua così non sarà minimamente in grado di affrontare le sfide future che si prospettano per l'arma azzurra nel corso di un futuro conflitto. Ma gliene incorse perché in quegli anni il duce oramai non aveva più bisogno di gente valida, non aveva più bisogno di gente competente, eravamo nel pieno dello staracismo, eravamo nel pieno del periodo in cui contava soltanto dire sì duce, agli ordini duce, come vuole duce e obbedire agli ordini, ai desideri. Io dico spesso desiderata, si può anche dire desiderata, obbedivano, obbedire ai desiderata del duce, obbedire ai desideri dell'uomo solo al comando, obbedire alla volontà, dell'uomo solo al comando e risparmiarsi la fatica di pensare con la propria testa e di prendersi delle responsabilità, perché tanto le responsabilità erano tutte di quello al piano di sopra, il quale distribuiva cariche, prebende, onori e quant'altro in base a quello che gli faceva comodo e se qualcuno osava aggrottare un sopracciglio, se qualcuno osava alzare un dito in timido segno di obiezione, basti vedere la fine che fece Leandro Arpinati, uno degli uomini più brillanti, perché oggettivamente Arpinati era un uomo brillante a livello di intelligenza e capacità amministrativa, organizzativa e burocratica. Sicuramente. Arpinati, per la sua autonomia di pensiero, per la sua capacità e incapacità di dire solo, sempre, soltanto e solamente sì, venne silurato e spedito al confino come lezione. Martelli Castaldi rischiò di fare la stessa fine. Giovane ufficiale, brillante ufficiale, il più giovane generale della regia aeronautica, ripeto, che ebbe l'ardire, la dignità, il coraggio, la responsabilità, si prese la responsabilità di scrivere al Duce, in pratica, Duce, la regia aeronautica, così come lei la vuole, non va bene. La regia aeronautica è indietro nella sfida per il progresso aeronautico. La regia aeronautica, in questa maniera, si rivelerà un'arma spuntata. Se si guarda quello che accadde qualche anno dopo durante la seconda guerra mondiale, occorre dire che il generale Sabato Martelli Castaldi fu decisamente un profeta poco ascoltato in patria, una Cassandra, per usare un termine, come dire, noto a tutti, un inascoltato profeta di sventure. Non fu profeta in patria, si preferì allontanarlo, si preferì congedarlo, si preferì congedarlo dalla regia aeronautica e metterlo a fare il direttore di un polverificio. Perché? Perché un uomo brillante, intelligente, polemico e soprattutto con una dignità che tanti altri leccapiedi si sognavano la notte, non faceva comodo al Duce, che non gli serviva, non serviva al regime, per il semplice fatto che il regime necessitava di yes-men. Meno Martelli Castaldi, più Pricolo, più Valle, più Pariani, più Soddu, più Badoglio, più Rodolfo. Graziani, vabbè, scusate. Insomma, il generale Sabato Martelli Castaldi vide interrotta una brillante carriera militare perché aveva fatto una cosa che il fascismo non tollerava. Si era preso la responsabilità di dire la verità al Duce e quella verità, come tante altre verità, al Duce non piacque. Quindi Castaldi, dovete tornare alla vita civile, fu messo a fare il direttore di un polverificio e vide con profondo dolore e profonda amarezza che le sue profetiche parole si stavano rivelando veritieri. Quindi cosa fare? Niente. Fare il suo dovere come direttore del polverificio e aspettare e guardare impotente lo sfascio del paese durante i mesi di partecipazione al secondo conflitto mondiale. Quando cadde Mussolini, ovviamente Castaldi non ne fu minimamente dispiaciuto, siamo sinceri. Che arriva l'8 settembre e Martelli Castaldi fu tra i primi a mettersi a disposizione del neocostituito fronte militare clandestino fedele al re, fedele al governo legittimo del sud e come dire spina nel fianco dell'occupazione nazista e del regime fantoccio di Salò. Che cosa che cosa accadde? Che cosa accadde? Venne arrestato per sabotaggio perché logicamente il fronte militare clandestino nonostante i contrasti coi gappisti e fronte militare clandestino collaboravano attivamente anche se c'erano forti contrasti tra i partigiani, tra virgolette civili di ispirazione comunista e il fronte militare clandestino che operava secondo schemi più propriamente militari. Castaldi fu arrestato per sabotaggio e portato a Via Tasso. A Via Tasso fu sottoposto a spaventose torture ma non cedette, non parlò, non disse nulla, anzi, anzi. Poi fu preso portato alle forze Ardatine dopo l'attentato di Via Tasso e lì fu brutalmente assassinato. Ci restano di lui il ricordo di una persona con una dignità, un coraggio e un senso dell'onore a prova di bomba e parlo sul serio di onore, non certo dell'onore tanto caro a qualche idiota che sappiamo noi, no. Sabato Martelli Castaldi era un uomo d'onore, era un uomo coraggioso, era un uomo che aveva quello che si dice degli attributi tali da doverseli portare dietro con la cariola e lo dimostrò anche in prigionia. Inviò, riuscì ad inviare alcuni biglietti alla moglie e lasciò anche sul muro della sua cella di Via Tasso un messaggio. Quando il tuo corpo non sarà più il tuo, spirito sarà ancora di più. Vivo nel ricordo di chi resta, fa che possa essere sempre di esempio. E già questo dimostra, cioè, un uomo fracassato dalle torture, il cui corpo era fracassato, sfracellato dalle torture, che trova la forza di scrivere queste parole sul muro della cella, in cui era detenuto insieme ad altri disgraziati. Cazzo di coraggio aveva quest'uomo. Ma sentiamo le sue parole nei messaggi che riusciamo ad andare a lavorare. La mia camera è di metri 1,30 x 2,60. Siamo in due. Non vi è altra luce che quella riflessa da una lampadina del corridoio antistante accesa tutto il giorno. Il fisico comincia ad andare veramente giù e questa settimana di denutrizione ha dato il colpo di grazia. Il trattamento fatto mi non è stato davvero da gentleman. Definito delinquente, sono stato minacciato di fucilazione e percosso, come del resto è abitudine. Scusate, come del resto è abitudine di questa casa? Botte a volontà. Già il fatto che un uomo riesca a fare ironia a questa maniera indica veramente non un coraggio da leone, indica veramente un fegato in titanio foderato in amianto per dire. Ma sentite che cosa racconta il 4 marzo 1944 nella sua ultima lettera alla famiglia. I giorni passano e oggi il 47esimo giorno di prigionia. Credevo proprio che fosse quello buono e invece ancora non ci siamo. Per conto mio non ci faccio caso e sono ancora molto tranquillo e sereno. Tengo sugli umori di 35 ospiti di sole quattro camere con barzellette e pernacchioni. Scusami quest'ultima parola ma è quella che è. E cerco di fare buon umore. Unisco una piantina di qui per ogni avenienza e perché, a mezzo dell'attore, quest'altra settimana me la rimandi completata. Penso la sera in cui mi dettero 24 nerbate sotto la pianta dei piedi nonché varie scudisciate in parti molli e cazzotti di vario genere. Io non ho dato loro la soddisfazione di un lamento. Solo alla ventiquattresima nerbata ho risposto con un pernacchione che fece restare i tre manigoldi come tre autentici fessi. Quel pernacchione della ventiquattresima frustata fu un poema. Via tasso ne tremò e al fustigatore cadde di mano il nerbo. Che risate! Anche se mi è costata una ulteriore scarica di cazzotti. Quello che mi pesa di più qui è la mancanza di aria. Io mangio molto poco, altrimenti farei male e perderei la lucidità di mente e di spirito che invece qui occorre avere in ogni istante. 4 marzo 1944. L'ultima lettera del generale Sabato Martelli Castaldi. Sentite questa però. Ve la ripeto. Ve la ripeto. Come faccio spesso? Mi ripeto. È vero. Sono prolisso. Sono fessi. E pensate a voi che vi lamentate per il mattoncino della Lego che calpestate. E cazzotti di vario genere. Io non ho dato loro la soddisfazione di un lamento e solo alla ventiquattresima nerbata risposi con un pernacchione che fece restare i tre manigoldi come tre autentici fessi. Quel pernacchione della ventiquattresima frustata fu un poema. Vi a tasso ne tremò e al fustigatore cadde di mano il nerbo. Che risate. E poi, come se niente fosse, beh, mi hanno tirato un'ulteriore scarica di cazzotti. Ma chi se ne frega. Il pernacchione. Signori, un pernacchione li seppellirà. Cioè, vi rendete conto? Cioè, vi rendete conto di che razza di uomo era il generale Sabato Martelli Castaldi? Un signore di quasi 50 anni. Aveva 47 anni. Aveva 47 anni. Ripeto, era il più giovane, era stato il più giovane generale delle forze armate italiane, dell'aeronautica italiana. Trascinato in galera, torturato, brutalmente torturato. E che cosa trova di fare? Cioè, che cosa trova... che cosa ha il coraggio di fare lui dopo essere stato massacrato a suon di nerbate alla pianta dei piedi? Che ve l'ho detto? Se voi provate dolore quando calpestate un mattoncino della Lego dimenticato per terra dal nipotino? Che cosa può avere provato lui con tre energumeni che lo torturavano massacrandogli i piedi a suon di nerbate sulle piante? Lui che cosa trova il coraggio di fare? Di prenderli a pernacchie. Ve lo ricordate quella scena di quel film in cui il grande Peppino De Filippo insegna a fare il pernacchio ai suoi amici? Beh, signori, il generale Sabato Martelli Castaldi ebbe il coraggio di farle in una situazione nella quale tutti noi molto probabilmente saremmo o morti o ridotti in lacrime. io dico solo questo. Come potevano i tedeschi o i loro servi? Chiamiamoli con il loro nome servi! Come potevano sperare di piegare un uomo così? Non potevano. Non potevano e non ci sono riusciti. Tant'è che lo hanno dovuto ammazzare. Va bene, signori. Adesso, come sempre, tocca a voi. Qua sotto commentate. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Come sempre aspetto i vostri pareri, aspetto i vostri opinioni. Come sempre vi consiglio, se non lo siete già, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina degli avvisi così almeno riceverete le notifiche sia delle live troppo spesso a sorpresa che faccio sia dei video che pubblico. Adesso spero di riprendere un pochino ritmo perché, oggettivamente, ripeto, sono stato abbastanza male. Scusate, la voce è quella che è. Però, come dire, sono di nuovo qui, a vostra disposizione. Signori, grazie per l'attenzione e, come sempre, come al solito, arrivederci al mio prossimo video e, soprattutto, ciao!